Stai cercando casa? Devi vendere o affittare casa? Affidati a chi lo sa fare. Affidati a Faro Immobiliari. Sicurezza, professionalità e trasparenza per raggiungere un unico obiettivo. Soddisfare le tue esigenze. Non perdere il tuo tempo. Scegli la strada giusta. Immobiliare Faro di Messina Edoardo, a Campo Felice di Rocella, in piazza Garibaldi numero 1. Telefono 0921 93 51 43. ImmobiliareFaro.it